non più consona a raccogliere le acque dell'intero comparto perché rotta ed ostruita anche in più punti, constatato anche che a seguito di un mio accesso agli atti gli uffici dell'area strategia del territorio avevano risposto con una relazione tecnica evidenziando una situazione a dir poco preoccupante con suggerimenti di interventi immediati, breve e a medio termine. Visto che si parlava di luglio, visto che sono arrivate anche forti piogge che hanno peggiorato ulteriormente la situazione su Valle Coppa, chiedo di sapere a che punto siamo con questo intervento, cosa c'è in programma e visto che stiamo a breve approfondendo il discorso del bilancio, se ci sono in programma i fondi stanziati per il risanamento della rete idrica di via Proaga a Valle Coppa.